Ciao ragazze! Allora, come promesso, eccomi tornata con un nuovo video haul e ho parecchie cose da farvi vedere, alcune cose che ho comprato, altre che mi sono arrivate perché appena sono tornata in Italia c'erano pacchi e pacchettini che mi aspettavano e non vedevo l'ora di aprirli. In realtà avevo pensato, ok, li apro con loro solo che ovviamente, conoscendomi appena sono arrivata a casa e c'erano tutti questi pacchi ho dovuto aprirli perché ero troppo curiosa. Però, allora, prima di iniziare con alcune cose che mi hanno inviato vi faccio vedere un vestito che ho acquistato su Asos per mia mamma che in realtà appena è arrivato ho detto, ok, lo voglio anche per la mia taglia perché secondo me è bellissimo. Allora, il vestito è questo qui allora, il colore è qualcosa di stupendo perché è questo azzurro, carta da zucchero super raffinato che sta bene sia se siete bionde, se siete amore come me, insomma e la particolarità di questo vestito poi ve lo farò vedere meglio in un video insomma, in un altro video in sovraimpressione sono questo pizzo floreale, il fatto che sia comunque un vestito oversize un pochettino oversize che però secondo me è perfetto sia se volete abbinarlo con un look casual da tutti i giorni e anche perché no, siccome questo era nella categoria abiti da cerimonia si può anche usare per un'occasione più particolare, ecco secondo me è veramente molto molto bello il prezzo è sui 50 euro che non è super super low cost, però insomma neanche è un prezzo proibitivo e di questo qui, siccome appunto fresco fresco l'abbiamo acquistato 5 giorni fa è arrivato l'altro giorno vi metto il link nell'info box e se volete acquistarlo appunto trovate il link diretto io sono qua che lo guardo e lo riguardo ed ecco, forse lo voglio prendere anche nella mia taglia perché è proprio bello bello comunque questo è il primo vestito che vi voglio segnalare perfetto per l'estate e anche comunque per settembre passando invece al secondo sito in cui devo farvi vedere tre vestiti il sito è everpretty.com che è il sito di cui vi ho parlato anche circa un mesetto fa e vi avevo fatto un video dedicato proprio perché i tre vestiti eleganti mi erano piaciuti tantissimo e me ne hanno inviati altri tre e ho preso tre vestiti uno è un po' più estivo e gli altri due che secondo me comunque potranno andare bene anche per settembre e ho deciso di ricollaborare con questo sito perché come avete visto i primi tre vestiti che mi avevano inviato mi erano piaciuti da morire e la qualità era eccellente allora, da quale partiamo? partiamo da questo che è quello che avete visto anche su Instagram che ho postato una foto, forse due va bene, allora il mio sito è questo qui allora sapete che io ho la fissa, la mania per il pizzo perché il pizzo mi piace davvero sempre tantissimo il blu è un blu cina, un blu elettrico un colore che va sempre bene insomma sia per l'estate che per poi il settembre quando inizierà a rinfrescare ed ha il collettino quindi che lo rende un po' più sportivo sbarazzino e poi tutto questo pizzo con i bottoncini che scende e sotto il pizzo blu c'è questa sottoveste color beige insomma secondo me l'indossato è bellissimo sia da mettere con uno chignon basso che con i capelli sciolti insomma mi è piaciuto tanto e tutti quanti come taglia sono una 6 che è una taglia degli Stati Uniti 6 che corrisponde alla 40 italiana e di tutti questi vestiti che vi faccio vedere avete per tutti i vestiti ma anche per tutti gli altri vestiti del sito il 30% di sconto, lo sconto si chiama Pistoni lo potete usare fino a fine agosto quindi avete tutto il mese se volete acquistare qualcosina in ogni caso appunto in questo sito trovate tantissimi tantissimi vestiti meravigliosi e come prezzi vi avevo già detto che siamo intorno io lo lancio nel letto come prezzi siamo intorno a prezzi di Zara, C&M eccetera però la qualità è ottima niente a che vedere, giuro con gli altri siti cinesi cioè questi qua comunque sono vestiti li vedi, che sono fatti bene con la loro etichetta molto molto belli per questo infatti collaboro volentieri perché li adoro e quello lì l'ho già messo questi qua hanno ancora l'etichetta su perché devo ancora metterli il secondo è questo e questo secondo me andrà bene per settembre quando l'aria rinfesca un pochino perché adesso è ancora caldo perché comunque le maniche a tre quarti però non è un tessuto molto leggero però io li ho presi pensando di indossarle poi fra tre settimane e un mese il colore è un bordeaux che mi piace molto anche qui ma va il pizzo sapete che sono fissata col pizzo ormai vi conoscete e poi giù scende tutto un po' non ha campana però insomma scende un po' più larghetto ed è stretto in vita e come prezzi di questi vestiti poi comunque vi metterò tutto nell'info box ma siamo sempre sui 30 euro 20 euro, 40 euro insomma non costano tanto io lancio ragazzi se vedeste cosa c'è qua attorno in camera c'è il delirio comunque l'ultimo vestito invece è questo qui questo è uno stile completamente diverso dagli altri perché è un po' più aggressivo, un po' più sexy eccetera e appunto è tutto nero ed ha questi dettagli insieme il pelle ovviamente non è pelle vera ed è appunto bello aderente eccetera molto sexy magari per un venerdì o un sabato sera con un tacco nero un paio di sandali gioiello dorati o perché no un tacco rosso insomma anche questo il tessuto non è leggero però appunto io come vi ho detto prima ho pensato di prenderli proprio perché li sfrutterò anche non solo ad agosto ma anche settembre-ottobre e appunto vengono questo qua appunto non ho ancora messo vengono tutti con la loro etichettina tutti quanti con scritto Ever Pretty cioè lo vedete che è un sito di qualità insomma sito che mi piace tanto vestiti altrettanto quindi non posso non farveli vedere perché ero eccitatissima quando mi è arrivato il pacco non vedevo l'ora di provarli io lancio c'è un altro cellulare sotto spero non averlo distrutto comunque allora questi erano i vestiti poi sempre per quanto riguarda vestiti che non c'entra niente con la modalità elegante e volevo far vedere un paio di pantaloni che ho preso da H&M per 17 dollari quindi 15 euro li ho presi in America prima di partire però ovviamente è un modello che trovate anche in Italia ed è un modello di della linea Divided allora questi pantaloni sono quelli che avete visto anche nelle foto su Instagram che ho messo durante il viaggio che li ho presi perché non avevo tantissimi pantaloni sportivi e poi per il viaggio che durava 80.000 ore volevo stare comoda e quindi volevo mettere qualcosa di super sportivo allora se voi cercate dei pantaloni sportivi comodissimi che li lavi e li rilavi e sono sempre perfetti andate da H&M Linea Divided perché questi appunto li ho pagati pochissimo in Italia il prezzo corrispondente è circa di 15 euro vestono molto bene perché sono leggermente insomma non aderenti leggermente larghi sui fianchi insomma sul sedere e poi scendono un po' a sigaretta vedete c'è l'elastico sotto e appunto c'erano così bordeaux c'erano neri c'erano di altri colori insomma se per caso ecco cercate dei pantaloni sportivi che potete mettere che vi servono comunque tutto l'anno andate da H&M Linea Divided o anche Linea Basic insomma e ne trovate un sacco poi io lancio quando parlando sempre di moda passiamo invece alle borse e come sapete collaboro da più di un anno ormai col sito di Diana & Co che mi piace un sacco anzi un saluto alla Franca e quindi mi ha ho preso cioè le ho scelte io lei me le ha inviate quattro cosine allora due sono perfette per il back to school e c'è una combo adesso ve la faccio vedere perché è un sacco carina l'idea allora il primo è questo zainetto tutto bianco che richiama il motivo marble style stile marmo che va tantissimo quest'estate e andrà tutto l'anno prossimo ed appunto questo zainetto perfetto per la scuola infatti ho detto ve lo faccio vedere già adesso perché è un sacco carino anche come back to school nel senso per il ritorno a scuola c'ha la zip davanti e poi appunto bello capiente dentro ci stanno insomma avete presente io mi ricordo che quando andavo al liceo all'epoca andavano di moda adesso non so se vanno ancora di moda sono passati 5 anni andavano di moda gli zaini della ISPAC ve li ricordate non so se li usate ancora chi va al liceo mi faccio sapere insomma come misura è quella quindi sono belli capienti e in abbinato sempre in stile marble c'è anche il portafoglio di Diana Eco che è appunto portafoglio classico forma rettagonale che si apre così e ci sta dentro di tutto ed è un'idea carinissima come stampa è uno stile comunque molto sportivo non è il classico stile elegante bontone però con un outfit carino anche per andare a scuola avete uno zaino insomma che è diverso dal solito come prezzi qui siamo sui 50 euro o 60 euro se non sbaglio di questo zainetto calcolatemi ormai lo sapete se mi seguite da più di un anno che per tutte le borse tutto quello che vedete nel sito di Diana Eco lo acquistate con il 30% di buono sconto che è Elisabetta Pistoglio for Diana tutto attaccato come sempre ci sono tutte le informazioni nell'info box quindi questa è la prima cosa poi un'altra borsa ecco lo zainetto non l'ho ancora usato perché non ho avuto occasione ecco io non l'utilizzerò mai ovviamente per andare a scuola perché le ho finite a mio sono però magari per qualche gito per qualche giornata sportiva lo sfrutterò quella che sto sfruttando un sacco è questa borsa qui che è aspetta che c'ho c'ho il portafoglio che la ingombrava tutta è questa qui metallizzata mi piace l'idea appunto di questo tessuto metallizzato perché sta bene d'estate con i sandali magari dorati ecco ho preso dei sandali dorati di H&M che volevo farveli vedere li ho dimenticati giù da basso non importa ve li ho fatti vedere su snatch te li vedete anche su instagram in caso andate a vederli lì comunque ecco sta bene con dei sandali dorati degli accessori dorati per l'estate super capiente ecco non ha la zip è l'unica cosa se non vi piacciono le borse con le zip però insomma a me piace molto e soprattutto questa è della nuova collezione quindi della collezione autunnale insomma autunno-inverno è bella secondo me anche con un outfit tutto autunnale magari non so l'abbinate con un cappottino nero il pantalone nero stretto dei sandaletti neri laccati insomma sandaletti buonanotte stivaletti in autunno i sandali li si mettono via ragazzi non riesco a parlare oggi comunque questa qua è bellissima anche per per l'autunno per fare qualche abbinamento autunnale quindi sicuramente la sfrutterò nei prossimi mesi e tra l'altro questa qui viene una volta che la comprate all'interno trovate questa che io non ho usato ho messo direttamente tutto dentro la borsa grande però se voi non volete fare casino in borsa volete avere tutto organizzato c'è questa qui che la mettete dentro che è la sua gemella insomma le vendono assieme con questa cinghietta qui che potete anche utilizzare questa qua come borsa singola quindi in realtà comprando questa è come se ne compraste due di borse comunque trovate tutti i link di queste cose che vi faccio vedere nell'info box e poi invece un stile completamente diverso super elegante e questa è una cosa ragazze è un amore questa borsetta è questa claccia qui cioè ditemi che cos'è questa borsetta tutta argentata e qui sfuma in rosa se non vi piacesse il fatto che sfuma in rosa nel sito c'è che sfuma in nero che sfuma in blu che sfuma in dorato è bellissima questa idea potete togliere e mettere la catenina così si apre buonanotte eccola calcolate che dentro non ci sta tantissimo però dovete usarla magari per una serata cioè ci sta dentro il cellulare dei sassoletti delle carte di credito dei soldi ecco una borsetta piccola e quindi calcolate questo però insomma secondo me è super 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 graziosa e questa è proprio non vedo l'ora di utilizzarla per qualche per qualche serata insomma un po' più elegante più particolare e poi vi faccio vedere invece passando invece la categoria diciamo beauty dov'è? eccolo qua questo ferro qui per arricciare i capelli che mi sono ordinata su Amazon quando ero in America perché volevo tornare in Italia e avercelo quindi questo è stato un autoregalo questo qui è un ferro per arricciare i capelli della Remington io prendo sempre le cose della Remington perché sono economiche però sono estremamente di qualità questo ha il diametro bello grosso perché non fa l'effetto boccolo medioevo e poi a me piace anche che oltre a per il diametro grosso mi piace il fatto che non abbia com'è che si chiama quella cosa quella pinza per fermare i capelli perché a me non piace io la trovo scomodissima soprattutto con questo mi piace fare le onde cioè mettere così i capelli lasciare fuori l'ultima parte in questo modo create dei boccoli che sembrano quasi quei boccoli super sexy creati con la piastra però secondo me con questo andate più comode e poi creano quell'effetto sexy beachy waves insomma che adoro io li ho fatti l'altro giorno solo che adesso sono scesi ovviamente perché insomma dopo un po' si ammosciano ci ho dormito sotto due notti comunque l'effetto è strabello e come costo è super economica perché gli ho dato 34-35 euro spese di spedizione gratuite quindi non le pagate e la cosa bella è che potete regolare la temperatura cioè vedete a quanto state scaldando i vostri capelli ho di solito la regola 170 proprio 180 massimo e bella un ottimo prodotto super consigliato ne avevo uno ma si era rotto quindi ho dovuto ho preso questo aspettato di tornare in Italia e quindi ecco questo volevo segnalarvelo e poi sempre per quanto riguarda beauty bellezza eccetera mi sono arrivati due prodotti lash che appena sono arrivati ero così perché io non sapevo proprio che esistesse una cosa del genere perché i prodotti lash li uso e li conosco da sempre soprattutto adesso se mi seguite da un po' sapete che mi sto convertendo sempre di più ai prodottini sia per capelli che per il corpo il più possibile naturali cioè che abbiano meno schifese dentro possibili e i prodotti lash sono fatti a mano solo con cose naturali questi qui me li ha inviati Elisa che lavora in lash perché sapeva che tornavo quindi mi ha scritto guarda che ti voglio fare provare una cosa e sono delle gelatine sotto la doccia che io di lash avevo provato soprattutto prodotti per i capelli e per il viso però le gelatine sotto la doccia io non sapevo proprio neanche che cosa fossero praticamente voi le trovate in queste scatoline qui queste sono due profumazioni diverse una si chiama wash e l'altra si chiama 93000 miles miglia e allora com'è che le usate? voi le mettete sarebbe meglio conservarle in frigo o addirittura potete ghiacciarle e una volta che dovete fare la doccia voi le tirate fuori dalla confezione io adesso sto usando questa qui infatti è ancora un po' bagnata mi sono fatta la doccia prima voi la tirate fuori adesso non vorrei fare un disastro perché vabbè non vorrei sporcarmi tutta comunque non è appiccicosa come gelatina voi la usate la prendete in mano come se fosse proprio una spugna solo che appunto ha l'effetto di una gelatina vedete proprio che si formano un po' la schiuma perché sta lavando del sapone ed ha questo profumo pazzesco questo effetto super infrescante che è qualcosa di fantastico e soprattutto calcolate che lavate il vostro corpo solo con ingredienti naturali non come i classici di doccia schiuma dove c'è dentro un po' il delirio e cioè poi è bello perché nella confezione vedete proprio questo prodotto è stato fatto da Zack c'è la data di scadenza usarlo fresco e poi è bello fatto con ingredienti freschi allora c'è tipo infuso di eucalipto menta piperita olio essenziale di foglie di cannella olio essenziale di menta piperita olio extravagine di cocco insomma siete sicure di quello che mettete nella vostra pelle e ecco io non ho ancora provato a usarle ghiacciate perché una volta che le comprate insomma vi consigliano anche di usare proprio ghiacciate d'estate in questo mese con un effetto super rinfrescante io invece le ho messe in frigo e poi quando ho fatto la doccia me le sono portate in doccia e me le sono proprio massaggiate in tutto il corpo e la sensazione è bellissima e appunto io ho queste due profumazioni questa sali menta con un pizzico di cannella questa è un po' una classica profumazione da doccia schiuma e se volete più dettagli di questi prodotti me ne ho parlato nel blog in un post dedicato in modo che posso spiegarvi meglio come si usano che ingredienti hanno insomma c'è poi una scheda per presentarle quindi volevo assolutamente farvele vedere in questo haul e nulla ma ragazze sembra di avervi fatto vedere tutto spero che l'all vi sia piaciuto che vi abbia tenuto compagnia vi ricordo che per usare tutti i vari codici coupon sconto per vedere semplicemente i vestiti e le cose che vi ho mostrato trovate tutto nell'info box così potete vederle nel sito guardare bene cosa vi piace i tessuti eccetera e lasciatemi un pollice in su se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte passate a seguirmi su instagram e su snapchat trovate i link sempre nell'info box e vi mando un bacio e vi auguro una buona giornata un buon agosto una buona estate e noi ci vediamo comunque prestissimo lunedì in teoria con un altro video ciao ragazze ciao